Ehi, gente! Sono io, il mercante numero uno preferito da tutti quanti a 1097. Oh, se non è un... un liner! Hey, hey, hey! Sembra che sei solo... Tutti i tuoi amici? Non è così? Le vendite? Andate tutto nello scherco scherco! Vendogli un dannato castanetto della spazzatura? Vabbè, guarda un po', ho un... Solitario, come te? Se perdi il controllo della tua vita... Allora te li riprendere con... Perché essere una piccola scomiglia che odiene la propria vita da... Quando puoi essere? Un pezzo grosso! Un pezzo grosso! Esatto! E ho proprio qui... La cosa... Che ti serve... Ed è... Il per collegamento bloccato! Tu lo vuoi! Tu vuoi! Il per collegamento bloccato! Non è vero? Beh, ho proprio da fare per te! Tutto ciò che devi fare è mostrande! Il tuo oggetto a forma di vuole! Sei un liner, no? Tu hai l'approccio! Perchè non la metti... In mostro? Ora, alla fase successiva... Ti aspetterò al mio... Negozio, quando... In casa no! Nella... Zona rifiuti chiusa per i palaceli! Vieni... da solo! E non... Dimenticarti... Di... Ti aspetta! Ti aspetta! Ti aspetta! Negozio you~! Pani!